Un videolampo riguardante un secondo la questione ucraina che veramente ha stufato la guerra, però un lampo solo. Allora, è inutile che mettiamo l'Ucraina nell'Unione Europea, facciamo ridere i polli, allora ha ragione Putin, mi dispiace, mi dispiace se qualcuno si offende. Cioè, questa è una deriva, noi dobbiamo obbedire al nostro paese, agli interessi del nostro paese, non a portarla. Allora, Tarut e Tutsu, avviso i naviganti, sta scattando una guerra, però nessuno ne fa. In Africa, in ogni regione c'è una guerra, perché l'Occidente non si occupa delle guerre in Africa? Perché il problema è che le guerre sono in tutto il mondo adesso, adesso. I kurdi sono attaccati dai turchi quotidianamente, ok? E noi appoggiamo Erdogan con le nostre mine? I kurdi sono un popolo attaccato, abbandonato a se stesso, il Kurdistan è il boccone della Turchia, ok? Quindi l'Occidente ha delle colpi, abbiamo esportato le guerre nel mondo, secondo la dottrina di Oriana Fallaci. Però non vi voglio annoiare. E contro i nostri interessi, perché vuol dire fare, scattare la terza guerra, è pericolosissimo mettere l'Ucraina nell'Unione Europea. Perché dopo c'è il pretesto poi per entrare in guerra, cioè vuol dire che le nostre forze armate, ragazzi, ragazze, giovani, devono rischiare la pelle. Per un popolo, scusate se qualcuno si offende, che è in gran parte russofono, come la stessa Moldova, non si capisce perché la Moldova voglia... Sì, vabbè, per avere i soldi, perché io conosco tante persone di origine moldava che dice che quando tu li parli della questione ucraina non ti rispondono. Perché? Perché sono fieramente russi, cioè parlano russo, sono russofoni, sono nostalgici del comunismo. Là il capitalismo, signori, ha portato solo morte e distruzione. Avete visto i villaggi che hanno questi, che vivono nelle baracche? Ma di cosa parliamo? Ma di cosa stiamo parlando? Hai capito? Poi lo smembramento dell'URSS è stata una vigliaccata degli Stati Uniti, scusa se te lo dico, perché sono profili, sono confini, ma lo dice uno storico famoso, come si chiama Barbero. L'ho detto Barbero, che vabbè è un progressista di sinistra, non è certo di destra, che diceva appunto, intanto parlava della grandezza della Russia, della cultura, perché un popolo è fatto di cultura. Noi abbiamo avuto Dante, che non è il primo pezzente, tra l'altro Mattarella è andato a vedere il film di Pupiavati, persona di cultura eccelsa. Mattarella con la Elisabetta Alberti Casellati e con Fico, perché Dante non è uno spazzino, è Dante con tutto il rispetto a quegli spazzini che fanno il lavoro più bello del mondo, lo farei anch'io. Comunque, tornando a noi, quindi la Russia è un popolo di cultura, Marco Polo, Dostoievski, cioè questi non sono dei pezzenti, sono persone che hanno scritto a tavolino la storia del mondo, ok? Dopo però, con l'accaduto del muro di Berlino, forse qualcuno di voi non lo sa, la Russia è stata smembrata, si è voluti infliggere il colpo finale, come hanno fatto noi. A noi, quando abbiamo perso la guerra, noi siamo usciti da perdenti, dobbiamo tutto dire grazie a De Gasperi, che ha salvato, a Trieste c'è l'andata perché c'erano degli interessi, se no perdevamo anche Trieste, tutti i Balcani li abbiamo persi, l'Africa l'abbiamo persa, tutte le colonie le abbiamo perse, non è che abbiamo fatto la figura, abbiamo perso, ci hanno umiliato, così come hanno umiliato la Germania, così come gli americani hanno umiliato la Russia, però il problema, come ha detto giustamente Putin, che non sono più i padroni del mondo, e quello è il problema, loro volevano prendersi la Siria e Putin gli ha detto no, no, stavolta no, basta, stavolta basta, l'Iraq la invasa, violando la sovranità, perché se parliamo di sovranità gli americani sono i primi che non devono parlare, perché Vietnam violata la sovranità, Iraq violata la sovranità, Afghanistan violata, chi è che viola la sovranità? Gli ucraini sono un popolo russofono, tra l'altro c'è un governo filorusso, l'occidente non si era indignato, ok, quindi mettere l'unione, è solo una provocazione alla Russia, è come, è come le fosse erdiatine, no, che mi dispiace, ma a volte la destra ha anche ragione, cioè quando i partigiani facevano gli attentati, e dopo gli altri si sono arrabbiati, ha detto eh però, ovviamente hanno sbagliato, perché le rappresaglie sono state terribili, sono state una vergogna, ok, e anche dei regime che sotto sotto appoggiava queste rappresaglie, però non bisogna mai provocare il nemico, è l'errore fatale, vogliamo fare, vogliamo milioni di, altri milioni di morti dopo la tragedia dell'olocausto, vogliamo altri milioni di morti in nome di quale, chissà quale democrazia, in Africa perché non ci andiamo, che si ammazzano fra di loro, visto che noi siamo i difensori della democrazia, perché appoggiamo i campi di prigionia in Libia dove muoiono i poveri migranti, eh, visto che siamo così democratici e moralisti.